Si avvia soluzione all'avvertenza dei lavoratori che effettuano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a sciacche i quali avevano annunciato peraltro altre giornate di sciopero a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi. Dopo varie riunioni tra amministrazione e raggruppamento di imprese, Bonosea è stata individuata la soluzione che consentirà di effettuare pagamenti regolari, ma sono arrivati anche impegni precisi in ordine alle mensilità retrate di dicembre e gennaio. Oggi possiamo confermare alla città e anche e soprattutto ai lavoratori che la problematica relativa al ritardo sui pagamenti, sugli stipendi dei lavoratori che svolgono il servizio di raccolta e rifiuti nella città di Sciacca sarà sicuramente scongiurato perché da oggi le ditte pagheranno lo stipendio del mese di dicembre e poi nella terza settimana di febbraio verrà dato un acconto per il mese di gennaio, per il servizio già svolto. Inoltre abbiamo anche avuto un'interlocuzione con la SRR che ci ha prospettato una formula di fatturazione diversa, questo permette di evitare il ritardo che la SRR poteva avere nella trasmissione della fattura definitiva riferita alle giornate lavorative dei dipendenti e quindi anticiperemo di ulteriori 15 giorni e alla fine possiamo garantire alla città e ai lavoratori che il meccanismo del ritardo verrà interrotto e noi saremo nelle condizioni nel mese successivo di erogare gli stipendi ai lavoratori con la regolata delle fatture che pervengono al Comune. In virtù degli impegni assunti l'assessore Mandracca ritiene che ci siano tutte le condizioni per poter revocare definitivamente lo sciopero. Noi pensiamo che ci siano tutte le condizioni per revocare lo sciopero, noi siamo certi, lo abbiamo sempre sostenuto, adesso spetterà a una organizzazione sindacale a revocare lo sciopero perché le altre due già lo avevano fatto perché avevano compreso l'iniziativa e l'atteggiamento positivo dell'amministrazione comunale valente.